I cavalli sono in partenza partete Zocandi assume il comando nei confronti di Killasi Dream quindi all'esterno segue Not Today davanti a Leading Woman poi Fata Turbina ancora Signora Grazia con in coda Princess Rebbe e Powerline cavalli ora lungo l'arco della curva con Zocandi deciso leader nei confronti di Killasi Dream quindi Leading Woman all'esterno di Not Today ancora Fata Turbina, Signora Grazia, Powerline per linea interna e Principessa Rebbe siamo in retta di arrivo con Zocandi che figura in leggero vantaggio nei confronti di Killasi Dream quindi Leading Woman per linea interna e Powerline poi Not Today è Fata Turbina siamo a 400 dal palo con in vantaggio Killasi Dream nei confronti di Leading Woman che ora sta attaccando all'esterno nel tratto conclusivo Sliding Woman e Killasi Dream in lotta ed è nel finale Sliding Woman che passa nei confronti di Killasi Dream poi Zocandi che precede Powerline per il terzo posto andiamo a rivedere le immagini con Sliding Woman che nel tratto finale ha ragione di forza con Dario Arjunzella a ragione di forza del numero 2 Killasi Dream che termina al posto d'onore mentre più indietro per il terzo Zocandi numero 8 mantiene la posizione nei confronti del numero 4 Powerline quindi 1, 2, 8 il probabile ufficioso arrivo della quarta corsa di Napoli sa se